Il Papa lo ha ridotto allo Stato laicale e lui non potrà fare appello. Il Congresso della Congregazione per la Dottrina della Fede ha emanato stamattina il decreto conclusivo del processo penale all'ex cardinale Theodore Edgar McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, accusato di abusi su un minore e di una condotta sessualmente inappropriata con giovani seminaristi e sacerdoti maggiorenni. La decisione per la stampa americana dovuta arriva a pochi giorni dall'apertura della riunione il 21 febbraio del meeting dei presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo con Papa Francesco, proprio per parlare di abusi su minori e adulti vulnerabili.